come dicevo prima ci truffiamo ci buttiamo nel mondo del delle biciclette del mondo delle due ruote perché parliamo di cicli Ballardine che nasce nel millenovecentottanta ed è un punto fisso ormai per la provincia di Varese dove acquistare biciclette e accessori ma si distingue anche per il servizio affidabile tempestivo e abbiamo con noi che ci parlerà proprio di 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 questo di questo negozio importantissimo abbiamo con noi Sebastian Ballardini che salutiamo Sebastian buongiorno ciao ciao a tutti allora caro Sebastian cominciamo con raccontare un po' la storia di cicli Ballardine e che servizi proponete? Cicli Ballardine è nata innanzitutto da da la volontà di mio padre che era un corridore di offrire un servizio sul territorio per per tutti i ciclisti quindi prima in un piccolo laboratorio di casa dal millenovecentottanta poi si è trasferito qua a Ponte Tresa ha deciso di aprire la sua officina ovviamente piano piano dopo l'officina ha implementato avendo anche tutti gli articoli correlati siamo arrivati vai 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 siamo arrivati oggi ad avere un po' tutti gli articoli dalle biciclette l'applicamento ecco eh dicevo che su una pagina su una pagina Facebook un giorno è scritto la bici può essere emozione passione e mezzo alternativo beh la passione abbiamo visto nasce proprio da tuo padre eh l'emozione perché ci si emoziona sempre ma quello che mi interessa è anche capire questa cosa del mezzo alternativo quindi perché scegliere la bicicletta e soprattutto perché sceglierla da voi? Beh innanzitutto la bicicletta proprio è il mezzo alternativo per eccellenza anche in questo periodo l'abbiamo visto e niente scegliere una bicicletta da noi è sintomo di eh di trovare la propria felicità e eh trovare un metodo alternativo soprattutto per i frontalieri che fanno tante tanta coda avendo un metodo veloce per eh per raggiungere il posto di lavoro. Io tra l'altro ho dato un'occhiata anche al sito ci sono veramente dei biciclette bellissime e qui arriva anche il periodo che stiamo vivendo a parte che il fatto della pandemia e quant'altro ma stiamo andando verso il mondo green e quindi comunque la bicicletta potrebbe essere eh se non avete idee è anche un bel regalo e quindi cosa consigli per questo Natale? Per questo Natale eh assolutamente per i più piccoli che sono stati chiusi in casa fino adesso magari un una bella biciclettina per poterli far girare in giro nel cortile o comunque anche andare a fare una pedalata. Per i più adulti assolutamente invece per chi è appassionato o comunque usa la bicicletta un casco che può assolutamente salvare la vita in caso di eh l'incidente ecco. Ecco giustamente perché gli accessori in questo caso sono molto molto importanti. Molto importanti. Insomma della serie andateli a trovare e diciamo allora dove venirvi a trovare esattamente? Noi siamo qua a Ponte Cresa poco fuori dal centro. Sì. Di Luino cinquantatré quindi in direzione eh Luino. Perché sicuramente sapranno darvi qualche buon consiglio anche in questo caso come dicevamo per un bel regalo di Natale. Sebastiano è stato un piacere averti con noi. Grazie e buone feste. Anche a voi.